Musica A tutti buonasera dal TG Prato, oggi è stato il giorno della giunta comunale, il sindaco Matteo Biffoni ha fatto le sue scelte, sono nove gli assessori, per un terzo civici il sindaco tiene per sé le deleghe a sicurezza e sport. A Prato oggi è stato il giorno della giunta comunale, ecco assessori e deleghe. Simone Faggi che avrà oltre al ruolo di vice sindaco anche l'assessorato all'immigrazione, assessore all'ambiente e la mobilità è l'architetto Filippo Alessi, l'assessore all'urbanistica e all'infrastrutture sarà l'architetto Valerio Barberis, l'assessore al sociale e alla salute è il dottor Luigi Biancalani, l'assessore all'istruzione pubblica è la dottoressa Maria Grazia Ciambellotti, l'assessore al bilancio sarà l'avvocato Monia Faltoni, l'assessore alla cultura sarà l'altro collega, l'avvocato Simone Mangani, all'assessore all'organizzazione e al personale, al cede, all'agenda digitale è Benedetta Squitteri, l'assessore allo sviluppo economico, fondi diciamo europei eccetera eccetera, è la dottoressa Daniela Toccafondi. Biffoni tiene per sé le deleghe alla sicurezza e allo sport dove però il consigliere comunale uscente Luca Vannucci, fino all'ultimo dato come assessore certo, è stato nominato consigliere delegato. Bilancio di previsione e bilancio consuntivo, ecco i temi che hanno priorità, bilancio, bilancio, bilancio ha ripetuto Biffoni, spero tanto che mi dicano che ci siamo sbagliati e che i conti sono in ordine, non sono per mettere le mani avanti e dire che non ci sono soldi perché quelli prima di noi hanno lasciato le casse vuote e anzi sarò il primo a dire con onestà che va tutto bene se tutto andrà bene, ad oggi si prospetta un disavanzo di cassa di 8 milioni frutto di diversi fattori, in due ore di conferenza stampa Biffoni ha toccato svariati argomenti tra cui quello del viadotto al soccorso io preferisco il sottopasso e sono certo che si può fare, ha spiegato, altra questione, Vittorio Sgarbi al critico d'arte il sindaco Cenni poche settimane prima delle elezioni ha affidato l'incarico di testimonial della cultura un bel pacchetto di soldi per mettere in piedi una serie di iniziative con Sgarbi parleremo la prossima settimana, ha detto Biffoni, partiamo da un fatto oggettivo, c'è un contratto firmato Biffoni sa di avere davanti grandi sfide, dall'aeroporto all'area del vecchio ospedale, dall'area alla città metropolitana e ha idee chiare, contrarie alla nuova pista dell'aeroporto, pronte a definire con la regione l'acquisizione dell'area del vecchio ospedale dentro fino al collo nelle logiche dell'area metropolitana e disposti a misurarci con il progetto di città metropolitana e adesso conosciamo meglio i nuovi assessori scelti dal sindaco Biffoni vi proponiamo questa scheda, vi diciamo chi sono, cosa fanno e vi diciamo anche che sono tutti alla prima esperienza di governo 5 uomini e 4 donne, ecco la giunta di Matteo Biffoni, il sindaco l'ha presentata stamani a 13 giorni dalle elezioni amministrative e a 10 dalla proclamazione ha tenuto per sé le deleghe alla sicurezza e allo sport ecco chi sono i nuovi assessori Simone Faggi, vice sindaco e assessore all'immigrazione 39 anni, sposato e padre di due figli è responsabile del settore immigrazione del PD di Prato laureato in giurisprudenza e operatore legale per progetti di accoglienza per rifugiati politici Filippo Alessi, ambiente e mobilità 37 anni, sposato, un figlio iscritto al PD dal 2009 è architetto e ha fatto parte del tavolo urbanistica istituito dalla segreteria provinciale del partito nel 2012 Valerio Barberis, assessore all'urbanistica e alle infrastrutture 43 anni, sposato, due figli, architetto responsabile della comunicazione esterna della laurea triennale del Dipartimento di Progettazione dell'Architettura dell'Università di Firenze Luigi Biancalani, sociale e salute 66 anni, sposato, padre di due figli esercita la professione di medico di base consigliere comunale dal 1975 al 1995 un passato nella DC proposto della misericordia di Prato in carico che ha lasciato oggi Maria Grazia Ciambellotti, assessore alla pubblica istruzione 52 anni, laureata in pedagogia è dirigente scolastico consigliere comunale della Margherita e poi del PD dal 2004 al 2014 Monia Faltoni, delega al bilancio 43 anni, svolge la professione di avvocato è consigliere provinciale uscente fa parte dell'Assemblea Nazionale del PD della direzione regionale di quella provinciale Simone Mangani, assessore alla cultura 41 anni, convive, ha tre figli avvocato, è consigliere comunale uscente Benedetta Squittieri, assessore all'organizzazione al personale, al CED e all'agenda digitale 37 anni, ha una figlia diplomata al liceo scientifico ha cominciato il suo impegno politico a 19 anni nella sinistra giovanile dal 2006 al 2009 segretario provinciale del PD Daniela Toccafondi, assessore allo sviluppo economico 52 anni, sposata, una figlia è laureata in economia ed è docente dell'Università di Firenze una settimana alla prossima densa di appuntamenti per il Sindaco Biffoni si comincia martedì con la prima riunione di giunta giovedì il primo Consiglio Comunale poi venerdì a Roma per l'incontro con il Presidente del Consiglio Renzi e intanto c'è questo nodo da sciogliere lo abbiamo detto, che è legato al bilancio sentite che cosa ha detto ai nostri microfoni la giunta, lei ha detto non abbiamo avuto fretta, non abbiamo avuto ansia da prestazione, ho voluto scegliere le persone più adatte a formare questa squadra che è una squadra competente che è una squadra con tante energie e innamorata della città esatto, questo è il ragionamento io avevo in testa persone l'ho anche detto, ho dovuto dare anche dei dolorosissimi anche in maniera personale per arrivare a questa giunta che a me convince molto, piace molto perché risponde ai requisiti che accennava lei faremo, credo, faremo un bel lavoro perché se lo merita la città il sindaco si tiene per sé la delega alla sicurezza, perché? perché io credo che su questo grido di dolore che arriva ai nostri cittadini deve essere il primo cittadino a metterci la faccia la nostra polizia municipale è una polizia municipale preparata competente, a grandi qualità e credo che funzioni se ha un filo diretto con il sindaco martedì prossimo la prima giunta si parte dal bilancio lei ha detto le preoccupazioni della campagna elettorale si stanno trasformando in un sentimento forse peggiore direi proprio di sì però io su questo voglio essere serio non mi piace come si fa di solito iniziare a spiattellare 4-20 ah c'è il buo di bilancio no, 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 assolutamente se le cose fossero a posto come mi era stato riferito io lo direi tranquillamente ma lavorando con i tecnici del comune vedendo bene le carte diciamo guardando quelli che sono i numeri belle preoccupazioni ci sono e come? intanto il 30 di giugno c'è da approvare il bilancio consuntivo quel bilancio consuntivo a cui la minoranza oggi maggioranza aveva detto no lei ha specificato no granitico ma si dovrà in qualche modo invertire la marcia ah se no arrivi il commissario il fatto che la precedente giunta non abbia avuto la capacità di approvarsi il proprio bilancio significa la situazione in cui ci troviamo e il paradosso e i paradossi che entro il 30 giugno va approvato un bilancio consuntivo che teoricamente va votato da chi 15 giorni fa 15-20 giorni fa ha votato in maniera contraria venerdì infine l'appuntamento è con il presidente del consiglio a Roma per parlare di Prato qual è l'ordine del giorno? questo sindaco porterà su quel tavolo i tanti temi di cui questa città ha bisogno di cui per troppo tempo si è parlato e poco si è agito lasciamo questa lunga pagina politica momenti di tensione in via Roma ieri mattina nella sede dell'assessorato ai servizi sociali un quarantenne pratese pregiudicato si è infatti presentato allo sportello affermando di aver diritto a sonvenzioni da parte del comune al rifiuto dell'impiegata l'uomo ha pensato bene di iniziare a strattonarla per poi minacciarla pesantemente al punto che le altre impiegate hanno chiamato il 113 chiedendo l'invio di una volante i poliziotti sono riusciti a riportare la calma e hanno poi denunciato il quarantenne per violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio degrado spazzatura di ogni genere nel parcheggio scambiatore che si trova proprio di fronte al museo Pecci appena inaugurato e anche di fronte alla questura guardate queste immagini spazzatura sparsa ovunque in mezzo al parcheggio nelle aiuole lungo i marciapiedi spazzatura di ogni genere avanzi di cibo pannolini sporchi vecchie sedie sacchetti pezzi di vetro e di plastica addirittura una bicicletta scaraventata sotto un albero benvenuti al parcheggio scambiatore di Viale Leonardo da Vinci a pochi metri dal casello autostradale di Prato Est e di fronte alla questura e al museo Pecci fresco fresco di inaugurazione una situazione di degrado che le immagini descrivono benissimo ma con un limite l'odore nauseabondo che si respira in questo pezzo di parcheggio perché non solo è stata scaricata un'enorme quantità di rifiuti ma anche i liquami dei bagni chimici la gente arriva la sera fa il suo comodo e questo è il risultato dice un cittadino che si avvicina alle telecamere per chiedere per quale motivo nessuno mette fine a questa situazione da giorni nel parcheggio è presente un accampamento di nomadi da chi hanno avuto il permesso per stare qui chiede il cittadino che abbiamo incontrato è giusto tollerare tutto questo degrado un quadro che diventa ancora più insopportabile se si considera che nell'area parcheggio ci sono attività commerciali e che questa zona è una delle porte d'ingresso alla città e al Giardino Buonamici la prossima settimana il prossimo fine settimana torna il tradizionale appuntamento con Divini Profumi Eleonora Barbieri il 14 e 15 giugno nel Giardino Buonamici parte la quindicesima edizione di Divini Profumi con l'attesa degustazione di vini e prodotti e piatti del territorio nel programma di quest'anno anche una serie di incontri con l'arte in menù nei ristoranti di vetrina toscana e sempre nel Giardino Buonamici mercoledì di luglio con i produttori delle strade del vino e dei sapori della federazione toscana partner dell'evento sono anche vetrina toscana AIS confesercenti e confcommercio i comuni di Carmignano Poggia Caiano Montemurlo e Vaiano che ospitano gli incontri con l'arte abbiamo voluto fortemente questa edizione di Divini Profumi nonostante le difficoltà in cui si debatte la provincia ha detto l'assessore Antonio Napolitano si tratta della manifestazione enogastronomica di punta dell'amministrazione ma potrei dire del territorio che è cresciuta negli ultimi anni anche grazie alla meravigliosa location del Giardino Buonamici e che dovrà proseguire con la collaborazione di tutti i partner il prossimo fine settimana dunque nel Giardino Buonamici in pieno centro di Prato sarà possibile assaggiare i prodotti tipici del territorio sorseggiando un ottimo bicchiere di Carmignano l'ingresso è libero con degustazione a pagamento era l'ultimo servizio del nostro telegiornale grazie arrivederci dal TG Prato a presto a presto a presto a presto buon su mace